ciao quando si vanno a creare pannelli in legno massello quindi pannelli composti da tavole di legno massello bisogna tener conto di diverse cose per evitare di avere problemi in futuro e ora in questo video ti mostro una regola da seguire è la più comune ma non è l'unica altri metodi te le farò vedere più avanti ma per ora concentriamoci su questo ma prima lascia che ti spieghi una cosa molto velocemente dunque questa qui è la sezione impianta di un tronco il tronco dell'albero da cui poi vengono ricavate le tavole allora quando in segheria tagliano il tronco ormai al 90 per cento se non al 99 per cento il taglio è tangenziale ovvero il tronco viene fatto a fette letteralmente in questo verso quindi cosa succede succede che prendendo queste tavole queste 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 già di meno perché la fibra risulta più perpendicolare rispetto alle facce della tavola stessa ma prendendo queste tavole qua di una metà del tronco di lungo intendo la metà o dell'altra metà del tronco ci si ritrova poi ad avere porzioni appunto di questi anelli di accrescimento perché questi cerchi concentrici altro non sono gli anelli di accrescimento dell'albero man mano che cresce aumenta di diametro ma questo penso che tu già lo sappia dunque con il tempo soprattutto la fase di stagionatura se una tavola contiene al suo interno gli anelli di accrescimento sono disposti in questo modo questa tavola a legno verde intendo nel momento in cui va a asciugare l'anello di accrescimento tende a allungarsi quindi tenderà a raddrizzarsi di conseguenza questa tavola subirà questa distorsione in questo modo questa deformazione quindi da così che è stata appena tagliata quindi è squadrata magari non è rifilata però le due facce sono parallele fra loro nel momento già dopo un paio di mesi che sta asciugando viene a trovarsi così perché gli anelli di accrescimento che prima erano delle linee semicircolari tendono a raddrizzarsi e di conseguenza deformano la tavola ovviamente io qui sto enfatizzando il problema e allora come ho disegnato qua sopra questo pannello composto da quattro tavole è bene alternare il verso del senso di accrescimento delle anelli fra le tavole quindi come verso di riferimento possiamo guardare quelli che puntano verso il midollo ma anche viceversa l'importante è avere un riferimento quindi in questo caso queste tavole qua hanno la faccia di sotto con gli anelli di accrescimento verso il midollo queste tavole qua hanno gli anelli di accrescimento verso il midollo verso l'alto quindi da questa parte ce l'avranno verso l'esterno in questo modo si sta alternando per convenzione si può dire anche un dritto e un rovescio comunque se questo se questo è A questo è B di conseguenza questo torna a essere A e questo torna a essere B questo è uno dei tanti metodi che ci sono forse anche il più sbrigativo ovviamente non bisogna eccedere con la larghezza della tavola ad esempio per i pannelli che sto facendo io sto usando tavole inferiori ai 100 mm di larghezza mi sembra che sono 95 96 più larga sarà la tavola che tu usi più porzione di anello di accrescimento di anelli di accrescimento al suo interno si troverà è molto più probabile che questa tavola col passare del tempo ti potrà dare problemi bisogna tenere presente che il legno è un materiale igroscopico cosa vuol dire igroscopico? vuol dire che in presenza di umidità assorbe l'acqua se in un ambiente umido e c'è una concentrazione di acqua nell'aria il legno assorberà parte di quest'acqua al suo interno nelle fibre al contrario messo in un ambiente asciutto secco tenderà a cedere parte di quest'acqua nell'aria quindi si asciugherà facendo questi passaggi non è raro che il legno si deformi il fatto che il legno sia igroscopico comporta anche appunto questi movimenti stagionali che avvengono tra il passaggio tra la stagione calda e la stagione fredda e umida oppure può avvenire nella stessa stagione ma dal passaggio di tenere un manufatto in un ambiente umido e all'improvviso portarlo che ne so dentro caso in un ambiente riscaldato con un clima interno alla casa secco e di conseguenza lì si verificherà un movimento può anche darsi che la cosa vada a finire molto peggio si potrebbero presentare delle fessurazioni se questo passaggio è repentino il legno di troppo potrebbe spaccare allora io ti ho accenato al taglio tangenziale e del taglio tangenziale bisogna dire anche una cosa che si usa anche il taglio radiale quindi si divide in quattro la sezione impianta del tronco e poi i tagli vengono fatti dal centro verso l'esterno midollo, corteccia, poi c'è alburno dal midollo all'alburno durame ed è questa la parte che interessa il legno da opera l'alburno generalmente che è la parte più esterna diciamo gli ultimi anelli del tronco questo viene scartato uno perché generalmente è più facile che venga attaccato dai parassiti xilofagi secondo perché soprattutto nei latifoglio e quindi legni duri cambia colore, diventa più chiaro ad esempio guarda il rover, guarda il frassino, il noce, il ciliegio in prossimità dell'alburno proprio a occhio lo vedi subito che il legno cambia colore osservare questa regola comunque non ti salverà il tuo pannello poi sta anche a te conservare diciamo questo pannello in modo adeguato ovvero una volta incollato il pannello se prendi e lo appoggi su un piano quindi di conseguenza appoggiandolo su un piano che ne so da qui sotto non prende più aria da qui sopra invece prende aria il giorno dopo questo pannello lo trovi imbarcato perché ha preso aria solo su una delle due facce in conseguenza rilascerà umidità da una parte dall'altra invece la conserva e le fibre che da una parte si sono contratte e dall'altra no tenderanno a far imbarcare il pannello e tu il giorno dopo ti trovi una cosa del genere cosa bisogna fare? dopo che si toglie il pannello dai morsetti se sono più di un pannello della stessa misura o anche di misura diversa bisogna metterli su un piano largo quanto i pannelli stessi uno sopra l'altro e poi sopra l'ultimo pannello un bel pannellino di multistrato per evitare che l'ultimo pannello prenda aria da una sola faccia e adesso mi sto componendo questo pannello da queste quattro tavole di rover che vedi sono ovviamente le tavole devono essere perfettamente piallate sia a filo che a spessore misura finita pronte alla prossima lavorazione che sarebbe quella di creare diciamo l'incastro che farà la giunzione fra una tavola e l'altra con un pennarello ho evidenziato il verso di accrescimento degli anelli in ciascuna delle tavole quindi sulle teste vedi queste strisce a partire da sinistra qui sono quasi perpendicolari alla faccia mentre qui si nota come si va già verso il midollo quindi questo qua le ho dato verso A sopra qui si va verso il midollo verso l'alto se di là si andava in basso a sinistra qui si va al centro verso l'alto in conseguenza questo è B e quindi sto alternando con questo da sinistra a destra sto alternando perché il midollo qui è in basso qui il midollo in alto qui il midollo è verso giù qui il midollo è verso su perché si va in alto a destra di qua ovviamente il tipo di giunzione che si utilizza per la creazione del pannello quindi il tipo di giunzione che farò fra le tavole influisce notevolmente sulla tenuta stessa del pannello il fatto solo di alternare la disposizione degli anelli di crescita fra una tavola e l'altra è una delle tante precauzioni da prendere poi bisogna studiare anche il tipo di incastro da fare ultima cosa ma non meno importante la colla colla bisogna usare una colla buona non c'è bisogno di andare a prendere colle che arrivano chissà da dove in Italia ci sono ottime marche di adesivi prodotti in Italia ovviamente curati anche l'aspetto estetico del tuo pannello quindi cerca di essere simmetrico io in questo caso sto mettendo le due tavole che presentano la faccia con la fiammatura centrali mentre le due tavole con il rigatino quindi l'andamento rettilineo della venatura le sto lasciando alle estremità per due casi uno per dare una simmetria ai due pannelli perché li farò tutti e due così ovvero il rigatino alle estremità e le tavole con la fiammatura al centro secondo perché all'estremità dei pannelli quindi a queste tavole andrà applicata la ferramenta di conseguenza visto che queste tavole mostrano la fibra non dico che sia perfettamente perpendicolare alle facce ma quasi l'anello di accrescimento è disposto abbastanza dritto quindi mi danno garanzia di maggior stabilità nel tempo di conseguenza utilizzerò queste tavole per applicare la ferramenta ai pannelli ti ho voluto parlare di una sola regola di quelle che applico generalmente uno per non fare molta confusione secondo perché le altre le vedremo man mano più avanti che mi si presentano le occasioni di potertele mostrare ovviamente voglio precisare una cosa che come ben sai per ogni regola c'è l'eccezione e questo in base all'esperienza riuscirai a capire quando è il momento di applicare l'eccezione e quando va bene invece seguire la regola perfetto con questo è tutto io ti saluto ti do appuntamento al prossimo video stammi bene ciao